A Roma, la tensione che da due giorni andava maturando alla borgata di San Basilio, dove agenti e carabinieri sono impegnati nello sgombro di case popolari occupate da famiglie di baraccati, è scocciata stasera in incidenti assai gravi, durante i quali un giovane morto raggiunto da un colpo d'arma da fuoco e un agente è stato ferito di strisce. La vittima è Fabrizio Ceruso, 19 anni. Poi che vi racconto, ma che vi devo raccontare, che è stata la guerra, altro che la guerra al Libano, c'è davano a noi quell'arma e avevamo vinto tutto, avevamo una fione e tre pistole, che c'è lui fa, con un po' di fionde e un po' di pistole, c'è già ammazzarli tutti per come li sono comportati. In mezzo ai fumogeni non si vedeva niente, infatti Fabrizio è morto in mezzo ai fumogeni che non sapevano neanche chi gli aveva sparato, tra l'altro, chi diceva la polizia, chi diceva invece un'altra persona, finché all'ultimo insomma hanno riscontrato che era stato ucciso da una guardia. Ecco qua, come vediamo, sembra un assetto di guerra di questi nostri giorni attuali, della guerra di Israele, come vedete, i protoni di polizia, i camionetti, i tempi, il 1974. Perché quelli che hanno occupato stavano dentro, ma tutti noi stavamo fuori, sotto la palazzina, pure alle case, come quando hanno occupato le case, noi stavamo lì il quartiere. E come adesso se fanno lo sgombro a San Basilio, corre tutta a San Basilio, non è che a San Basilio diceva, vabbè non è lo sgombro, io non scendo, scendono tutti a San Basilio. Già avevano fatto un mezzo tentativo e poi sono ritornati in forza, sono ritornati in forza proprio con violenza. Ai 5 di mattina, con 81 e mezzo calati, si salivano sul pescale e sfondavano i porti, terrore. A quel punto c'è stata una violenza vera, perché dopo si è svegliata anche la popolazione di San Basilio, non soltanto noi occupanti. E lì poi sono venuti i ragazzi ad aiutarci, i studenti, tanti altri bravi ragazzi. Dei poliziotti praticamente, siccome erano tantissimi, stavano dislocati nel quartiere praticamente, e quindi c'erano scontri su questa via, scontri sull'altra via più giù, quindi diciamo che quello fu il momento più alto dello scontro che c'è stata. L'occupazione che mi ricordo del 74, queste famiglie disperate perché non c'erano casa come adesso diciamo, però all'epoca erano molto più uniti, si aiutavano uno con l'altro e per questo la lotta si è fatta. Lì è stato l'inizio, ma il secondo giorno, il terzo giorno, il quarto giorno, il quinto giorno c'è stata lì. L'epoca